Itaca, con il suo staff di tecnici altamente formati, è un punto di riferimento per il trattamento delle acque e la gestione dei rischi sanitari legati a virus, batteri e legionella. L'emergenza Covid-19 ha portato in primo piano la ricerca di soluzioni per la prevenzione e la sicurezza igienica degli ambienti di lavoro. La risposta di Itaca è il sistema di sanitizzazione No Touch. I nostri operatori eseguono inizialmente campionamenti tampone per la verifica dell'efficacia del trattamento, campionamenti che vengono ripetuti anche a fine processo. Il sistema di sanitizzazione No Touch, messo a punto da Itaca, consiste nel diffondere nell'ambiente una nebbia secca, formata da una miscela di acqua e perossido di idrogeno ad altissimo potere disinfettante e senza conseguenze tossiche su persone o danni a oggetti di qualsiasi materiale. Gli ambienti vengono saturati con un grado igrometrico maggiore del 75%, lasciando agire il sanificante per 10 minuti a porte chiuse. L'aerosol si diffonde rapidamente su ogni centimetro quadrato di superficie libera, determinando la totale distruzione della membrana batterica e inibendo ai batteri stessi la possibilità di riprodursi, contrariamente ai tradizionali metodi di irrorazione o strofinamento. Il sistema No Touch è ecosostenibile non invasivo e dura 15 minuti, rendendo gli ambienti subito fruibili. Per la sanitizzazione di uffici, aziende, scuole, studentati, ospedali e case di cura, scegli la professionalità di Itaca, il tuo partner ideale per la sicurezza degli ambienti.